ciao a tutte ragazzi eccoci qua con un altro video dove vi voglio mostrare che i prodotti che abbiamo acquistato per me e per la sabina abbiamo acquistato un nuovo bubble bath profumo raspberry e cassis eccolo qui il profumo cocktail ho già sentito la profumazione della fragranza spray ed è qualcosa è dolce perché è dolce quindi a chi non piacciono le profumazioni dolci non va bene però è buona veramente ho preso due bubble bath da un litro per rifornire la collezione intanto qualcosa vi farò vedere i nostri bubble bath e le nostre acque profumate che teniamo via di scorta non possono mai mancare ne ho presi perché c'era poi ho preso il gel per le mie famose occhiaie per il contorno occhi della planet spa eccolo qui che lo si veda bene sono quanti ml sono sono 15 ml però ne va messa una mattina e sera una puntina e poi picchiettato bene quindi il prodotto ce n'è allora dalla telecamera sembra azzurro ma invece è un verdino il tubetto quindi inganna la telecamera inganna tutto noi abbiamo preso i deodoranti quello a cui ormai sono affezionata il fresh 48 ore che mi trovo bene che è verde e ho voluto provare questo qua rosso anche da 72 ore a vedere un po come se mi trovo bene anche questo per cambiare ogni tanto come novità ci sono le lozioni mani questi qua sempre profumo raspberry cassius è la nuova profumazione che appena uscite quindi adesso stanno ora proponendo come bubble bath avon naturas eccola qua sono 75 ml ed è nei mani infatti hanno fatto la crema corpo e la rozione mani e non hanno fatto il gel doccia dell'avon naturas che di solito quando uscì la nuova profumazione c'è crema mani acqua profumata no crema mani scusate c'è oddio il gel doccia la lozione per il corpo e la fragranza scusate ma c'è caldo siamo in settembre ma da noi fa ancora un caldo bestiale già una roba esagerata e come vi stavo dicendo mi si passa lungo il filo perché c'è troppo caldo di solito fanno la la von natural fa doccia schiuma crema corpo e l'acqua spray la fragranza spray questa volta invece ha fatto la fragranza spray la lozione per il corpo e quella per le mani al posto del gel doccia perché hanno fatto il bubble bath della stessa profumazione perché di solito non fanno la profumazione uguale bubble bath e la von natural non fanno le stesse profumazioni invece questa volta si volevo farvi vedere riesco il profumo ma se c'è un profumo che è una meraviglia è una meraviglia c'è troppo 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 fatti adesso questo qua lo metto in subito in borsetta una borsa che io uso per la scuola per andare sul pulmino così d'inverno me la metto e poi e le acque profumate naturalmente non possono mancare eccole qui io le chiamo acque profumate ma sono fragranze spray vengono chiamate anche è da mangiare è da mangiare proprio secondo me dopo pompelmo e menta questa qui è una delle profumazioni azzeccatissime che io sto adorando pompelmo e menta è tutta estate che la uso e fin che c'è in catalogo continuerò a fare scorta perché è troppo troppo buona e anche questa qua diventerà la mia sconda un'altra preferita e per finire abbiamo provato a prendere è già aperta perché abbiamo già testato il rasoio il rasoio si il rasoio è da donna eccolo qui le piede non sono dentro mi raccomando c'è il pennellino per pulire questo qui è il rasoio allora questa che c'è su è la testina quella per le parti intime quando sono lunghi qui poi la si toglie ecco e c'è quella normale quella per i peli ed è con la sabina l'abbiamo provata io ho provato per le braccia che sapete che io non 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 uso togliermi i peli sapete che nei video vedete sempre il maglioncino no? ed è fantastico guardate non ho perfetti le braccia sono perfette e ho fatto in 5 minuti cioè è eccezionale questa è la testina che poi togliete ops attenzione questa qui qui e poi con il pennellino voi pulite così una volta che avete finito io adesso lo sto facendo perché è pulito se no non mi permetterei mai di pulire il rasoio sul tavolo dove ci cucino ci lavoro ci faccio non mi permetterei mai solo per farvi vedere la semplicità ecco qua perché l'ho usato ieri pomeriggio la sabina ma poi l'ha pulito perché così rimane ehm lavora meglio quando è pulito bianco e rosa skin off soft rimettiamo semplicissimo da montare e smontare ecco qua fatto io per non perdere i pezzi questo qui glielo lascio ehm glielo lascio sempre in su così si protegge anche la lama la lama che c'è sotto metto nel suo pacchettino così e ci sono anche le istruzioni quelle quelle in italiano sono le seconde no si nella seconda non nella prima ma nella seconda pagina vi fa vedere questi qua vi fa vedere insomma come le varie testine come si puliscono nel genere ma niente di che ecco fatto queste e devo dire che ehm nella campagna 9 ecco questi gli ho fatti questi e questi gli ho fatti nella campagna 9 era a 21 euro 21 o 21,90 sono sincera ho un voto di ehm di memoria oh managina bella non me lo ricordo beh fa niente mi verrebbe dopo lo ripongo nella sua scatolina così rimane tutto bello compattino scatolina bianca semplice niente niente ragazze io spero di non che il video vi sia piaciuto di non avervi annoiato ehm troppo come sempre giù nell'info box trovate tutti i link ai nostri ehm social ehm cosa voglio dirvi mi sa che comincerò ehm sulla pagina a mettere anche qualche foto Avon mi sa adesso guardo o sul mio profilo quello normale oppure sull'altro mi savi ehm word da mettere qualche foto su dell'amo adesso devo valutare comunque vi mando un grosso bacione a tutti voi perché mi se mi seguite ci seguite sempre e noi ci vediamo nel prossimo video ciao